Un ottimo strumento per stimolare l'apprendimento tramite l'utilizzo dei video è TED-ED. TED-ED è un'estensione di TED.com e più precisamente è la sezione dedicata al mondo della scuola. Ma che cos'è TED? TED è un'organizzazione no profit che ha come obiettivo quello di liberalizzare la conoscenza e le idee innovative e renderle accessibili a tutti proprio tramite le video presentazioni. La peculiarità di TED-ED sta nel fatto che mette a disposizione degli insegnanti una sorta di struttura di lesson plan che permette di inserire all'interno dei video delle attività per interagire con i ragazzi, come per esempio un brainstorming, un quiz, avviare delle discussioni, inserire ulteriori approfondimenti e assegnare anche dei compiti. Questo ci permetterà quindi di avviare delle riflessioni che non saranno improvvisate sul momento, ma che l'insegnante proprio tramite questa struttura potrà pianificare in maniera attenta e precisa a casa prima di presentare la lezione ai propri ragazzi. Vediamo però tecnicamente come funziona TED-ED. Su TED-ED possiamo sia riutilizzare lezioni create da altri oppure creare le nostre lezioni. Andiamo adesso a vedere come riutilizzare delle lezioni già esistenti. Possiamo scegliere tra singole lezioni oppure tra serie di lezioni che sono state organizzate per argomenti. Scegliamo adesso una singola lezione, clicchiamo su una qualsiasi lezione a puro titolo esemplificativo. Come vedete a fianco al video ci sono delle sezioni che riguardano proprio le attività con cui noi possiamo interagire con gli studenti per riflettere sull'argomento del video. La prima sezione riguarda la visione del video. La seconda sezione, Think, è una sorta di brainstorming che potremmo avviare tramite dei quiz che potranno essere quiz a risposta multipla o anche a risposta aperta. Abbiamo poi la possibilità di aggiungere ulteriori approfondimenti tramite la sezione Dig Keeper. Qua possiamo inserire ulteriori nostre riflessioni ma anche dei link a risorse esterne costruendo degli ipertesti. Infine con la sezione Discuss possiamo avviare delle discussioni. Queste discussioni potranno essere discussioni guidate ma anche discussioni aperte che i ragazzi porteranno avanti e noi potremo monitorare. Infine possiamo aggiungere anche dei compiti, delle assegnazioni. Se clicchiamo qua invece su Customize this lesson abbiamo la possibilità di personalizzare questa lezione sostituendo i contenuti già inseriti con i nostri contenuti. Abbiamo anche la possibilità di cambiare il video e quindi creare una nuova lezione da zero o tagliare il video. Cliccando qua su More possiamo vedere un'anteprima o cancellare la lezione. Mentre se clicchiamo su Publish abbiamo la possibilità di condividere facilmente la lezione. TedEd ci chiede se vogliamo condividerla tramite account quindi facendo accedere i nostri studenti a TedEd oppure se vogliamo rendere la lezione a libero accesso senza bisogno di avere un account. Clicchiamo quindi su Share your lesson verrà generato in automatico un link che noi possiamo facilmente condividere con i nostri studenti. Le lezioni che possiamo riutilizzare su TedEd sono tantissime come abbiamo detto sono tutte in inglese ma hanno sottotitoli in italiano. Vediamo però come possiamo creare la nostra lezione da zero. Se io clicco infatti qua su Create, Create a lesson, mi viene subito data la possibilità di scegliere un video per creare la mia lezione. Io qua posso sia copiare il link di un video che ho già visionato oppure fare direttamente una ricerca inserendo l'argomento. Immaginiamo per esempio di voler parlare di inquinamento e di volerlo fare con i bambini. Avvio la mia ricerca. Mi vengono proposti diversi video. Adesso ne scelgo uno qualsiasi a titolo esemplificativo. Ho la possibilità di vedere un'anteprima e poi cliccando sul Continue posso iniziare a creare la mia lezione. I passaggi sono quelli che abbiamo già visto. Abbiamo la possibilità di introdurre il nostro video con una presentazione cliccando su Let's Begin. Se clicchiamo qua su Think possiamo aggiungere un test con risposte a scelta multipla o domande aperte. Possiamo poi aggiungere ulteriori riflessioni aggiungendo anche dei link a risorse esterne. Possiamo poi avviare delle discussioni che possono essere guidate o aperte e infine possiamo assegnare un compito ai nostri ragazzi che potrebbe prevedere per esempio la realizzazione di un prodotto finale o di una presentazione relativa proprio all'argomento del nostro video. Una volta che abbiamo inserito i nostri contenuti anche in questo caso abbiamo la possibilità di tagliare il video o cambiarlo se non siamo soddisfatti mentre cliccando su More possiamo vedere un'anteprima e cliccando su Publish come abbiamo già visto prima possiamo facilmente pubblicarlo per poi condividerlo con i nostri studenti.